La dottoressa Giulia Giordano. Piacere. Piacere, benvenuta. Grazie. Sai niente di Andrea? Ti chiedo solo di tornare al reparto per qualche ora e fingere di essere il primario. Sono arrivati i risultati delle sue analisi. Questo è rilevante. Davvero hai dato le dimissioni? Non soffrerò più? No. Ed è tutto merito del dottor Fanti. No. Non puoi farlo, Andrea. Non dopo quello che hai dimostrato di poter fare.